Chi di noi non ha mai avuto uno di questi tre problemi? Stress, psicologico, psicofisico, problemi familiari, problemi di coppia. Uno di questi tre, magari tutte e due, addirittura tutti e tre, non solo le abbiamo avuti tutti, ma probabilmente l'abbiamo in maniera cronica. Adesso domandiamoci quali sono le cause che generano questi problemi. Possono essere di qualsiasi tipo, ma la causa numero uno di tutti e tre questi problemi, naturalmente sto generalizzando, ma la causa numero uno sono i soldi. Eccoci arrivati qui, sapete sempre dove vado a parare. Lungi da me da fare lo psicologo, darvi consigli di vita, ma il mio tema è quello dei soldi. E torniamo al vecchio discorso, i soldi danno la felicità. Certo che i soldi danno la felicità, ma non c'è dubbio, in maniera indiretta e poi neanche tanto. Ve lo ridico, perché abbiamo già parlato un'altra volta, con questi tre esempi di stress. Lo stress da lavoro. Questo è facilmente comprensibile, uno deve andare a lavorare ore e ore e ore e preferirebbe essere da un'altra parte. Per cui questo crea uno stress personale o addirittura fisico. Parlavo qualche giorno fa con un amico che non poteva andare a una visita medica perché era sul posto di lavoro proprio quando il medico era aperto. Ed è il tipico che lavora da lunedì a venerdì, tipo dalle 9 alle 17, una cosa del genere. E non può andare, deve prendere un giorno di ferie per andare dal medico. Ma questo ti crea stress, a parte che ti può allungare la malattia o ti può comunque creare degli effetti collaterali. Per non parlare del lavoro in se stesso. Per andarci devi fare la coda in tangenziale o in centro città, poi i clienti che rompono le balle, il capo, i dipendenti e le tasse. Insomma, è tutt'una. Questa cosa fa stress. E perché? Perché devi raggiungere quel livello di soldi a guadagnare ogni mese? O perché non stai gestendo bene la tua azienda? Insomma, in un qualche modo stai sbagliando la gestione dei soldi. Tanto che devi sbatterti tutti i giorni come uno schiavo di te stesso per riuscire ad arrivare a quel livello. Problemi familiari. I tipici problemi, quelli che costano dei soldi, sono i problemi dei molto giovani e di quelli molto vecchi. Il bambino che ha bisogno di un mucchio di soldi per riuscire a mantenersi nella società, e la scuola, i libri, lo sport, eccetera, eccetera. E gli anziani invece che hanno altri tipi di problemi. I miei genitori quando sono vicini alla fine io li sbattino spizio, tanto non capiscono più niente. E ci sono ancora sti deficienti al mondo. Tuttavia tutta sta roba costa e quindi da stress non avrai lo stress psicofisico se la pensi così. Però comunque costa soldi, devi pagare sta roba qui. Quindi è sempre un problema sia che tu faccia così o nell'altro modo. E poi problemi familiari che derivano dalla gestione dei problemi comuni. Non ultimi le eredità. Sapete le eredità? Quanto lavoro che danno prima ai notai e fin qua ci siamo, ma poi agli avvocati e ai tribunali. Tutta sta roba è carissima. E non so quante famiglie sono già state distrutte da disaccordi riguardanti le eredità. Ma probabilmente i problemi più grossi in questo senso sono nei divorzi e nella gestione familiare del denaro. Una gestione familiare in senso della coppia. Uno vuole fare una cosa, uno vuole fare l'altra. Andiamo in vacanza, no, non abbiamo soldi. Amore mi dai una prova d'amore. La prova d'amore non è altro che una cosa che nell'eventualità dopo si tiene la persona che l'ha ricevuta. Questi meccanismi li conosciamo tutti. Per non parlare di altre cose molto più seri, magari una coppia che ancora funziona. E cioè compriamo una casa o la affittiamo. O altrimenti, questa che sto per dire è una cosa che distrugge tantissime famiglie. La delocalizzazione del lavoro. La gente per lavorare deve spostarsi così tanto che non è più possibile vivere nella stessa città. Ma non puoi fare tutti i giorni 500 chilometri o migliaia di chilometri e fai avanti e indietro. Devi andare a abitare là. Magari questi invece sono i figli, vanno a scuola, come facciamo andare a abitare l'altra parte, eccetera, eccetera. Queste cose creano problemi gravissimi all'interno della coppia. E se non c'hai soldi, devi soffrire. Sì, è vero, perché una maggiore disponibilità di denaro aiuta sicuramente ad andare avanti in maniera più agevole. Ma è la cultura finanziaria quella che veramente aiuta. Perché problemi finanziari sono pochissimi quelli che non li hanno mai avuti. Magari anche quelli che ne hanno, ne hanno avuti in passato. E come hanno fatto questi? Con la cultura finanziaria e risparmiando, gestendo bene. Ma non è che uno diceva, sai, stasera non esco. Non basta quella cosa lì. Bisogna fare un piano. Sapete quante famiglie che affittano caso, la comprano, vanno in vacanza o gestiscono le spese di genitori infermi o di figli che hanno bisogno di investimenti per la scuola, comunque per l'educazione. E vanno avanti, fanno le loro cose, sebbene guadagnano in maniera normale o addirittura sotto la normalità. Questo perché, a parte che questi devono per forza andare d'accordo, ma non è il tema di questo video, soprattutto perché hanno una cultura finanziaria. In questo video non do consigli finanziari specifici, ma la cosa che vi sto per dire, fatela, anzi, cominciate subito. Scrivetevi tutto quello che spendete e anche che guadagnate. Ma quello che guadagnate più o meno lo sapete, soprattutto se siete dipendenti. Ma scrivetevi tutto quello che spendete. Caffè 1,20 euro. Ma cos'è 1,20 euro? Ma lo offro anche a lui. No! Scrivete questa roba qui. Anche se lo prendete solo voi, un caffè 1,20 euro, sono a fine del mese più o meno un 30-40 euro. 30 euro al mese e se guadagnate 1000 euro, sapete quanti sono? Sono il 3%. Voi avete speso 3% solo per quel caffè la mattina che vi dura un secondo, che lo buttate giù. 6% se lo offrite sempre a qualcuno. Cioè, fateli questi conti. Cioè, il 6% o il 3% del tempo che passate al lavoro, che descrivevo prima, lo fate per quella roba lì, che dura un secondo. Allora, cercate di ottimizzare questa cosa se alla fine del mese ci arrivate con un certo imbarazzo. Vi ho fatto solo qualche esempio per farvi capire da dove arrivano i problemi finanziari. Uno che gestisce il caffè, come ho appena descritto, gestisce tutto così, no? Per cui, attenzione a questa cosa, attenzione allo stress che avete sul lavoro, attenzione ai problemi familiari, attenzione ai problemi di coppia. Perché le cause principali vengono da una mala gestione del denaro. Quindi, primissima cosa, fatevi una cultura finanziaria, studiate, leggete. Questa è la cosa numero uno per evitare la maggior parte dei problemi sopra elencati. Questa è la cosa?!